Tutti quei bei panchettoni o politici o attivisti di sinistra, belli convinti, belli incendiari che si fanno, si strafanno, distruggono il mondo e poi te li trovi lì con le sacche da cavata che comandano loro e sono peggio di quelli che hanno combattuto quando erano giovani, una scherza. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.